All'interno della direzione dell'area vasta 4 di Fermo si è tenuta in mattinata una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dell'ospedale Murri e sulle procedure di vaccinazione. Sono intervenuti al tavolo il direttore dell'area vasta 4 Licio Livini, il direttore del Dipartimento Prevenzione dottor Giuseppe Cerrocchi e il dirigente medico dottor Fabrizio Santillo. Dopo lo scoppio di un focolaio al Murri, subito dopo le festività natalizie che ha segnato pesantemente l'ospedale, ora siamo rientrati in una fase di normalità con una serie di azioni che portano a una fase meglio gestibile. Come è precisato dal direttore dell'area vasta 4 Licio Livini. Vogliamo lavorare in questi giorni per cercare di fare il possibile per riportare la nostra sanità verso la normalità. C'è una variabile molto importante che è l'andamento esterno, una variabile legata al fatto di quello che succede fuori dall'ospedale. Quindi il fatto di essere zona gialla non vuol dire, secondo noi, allentare le attenzioni, ma anzi mantenerle e forse pure essere più attenti. Perché questo significa poterci riorganizzare verso quelli che sono i nostri obiettivi, cioè quello di riportare per quanto possibile l'ospedale ad una situazione di normalità controllata. C'è una circolazione virale sostenuta, l'RT è vicino all'1, questo significa che la contagiosità è elevata e questo non ci può fare stare sereni. Così esordisce il direttore di Dipartimento Prevenzione Giuseppe Ciarrocchi. Noi stiamo cercando di immunizzare tutto il personale sanitario con due dosi e questo in parte ci siamo riusciti. Abbiamo un indice di adesione abbastanza alto, circa l'80%, ma non sufficiente ad avere quella sicurezza all'interno delle nostre strutture sanitarie che ci permetta poi di far sì che cluster di infezione non si presentino più. Questo è possibile quando tutto il personale sanitario di una struttura è vaccinato. In questo caso l'infezione è una trasmissione che viene ostacolata dal fatto che il personale è vaccinato, quindi chi fa assistenza non trasmette il virus da un paziente all'altro, non infettandosi loro stessi. Quindi questo è l'optimus, ma in questo momento non siamo ancora in grado di raggiungere perché l'adesione vaccinale, pur essendo alta, non è completa e purtroppo non abbiamo gli strumenti. L'unico strumento è quello dell'informazione degli operatori sanitari, di cercare di convincere gli operatori sanitari alla vaccinazione, che è inaccettabile che oggi ci siano operatori sanitari che ancora rifiutano la vaccinazione contro il Covid come per le altre vaccinazioni. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni degli ultraottantenni, che è comunque la fase 1, stiamo organizzando prevedendo dei punti vaccinali di popolazione. Una fetta rilevante di questi pazienti possono recarsi perché autonomi in questi punti vaccinali, mentre per i soggetti non autosufficienti è previsto che il medico di medicina generale o il distretto si reghi a domicilio a vaccinare queste persone. La prossima settimana il sito di riferimento sarà l'ex ospedale di Montegranaro, dove verrà attrezzato un punto vaccinale che permetterà di fare circa oltre 250 vaccini al giorno.